Rai, Gianyaman smentisce, niente Sanremo. Fan in rivolta. Ecco cosa è successo. Rai, Gianyaman smentisce, niente Sanremo. Fan in rivolta. Ecco cosa è successo. Da settimane gira voce che Gianyaman sarebbe ospite del Festival di Sanremo 2022. I City Gossip hanno riportato la notizia lasciando intendere che l'attore turco di Daydreamer avrebbe affiancato Amadeus come ospite per una serata sul palco dell'Ariston. Si dava la sua presenza quasi certa e le fan dell'attore turco erano al settimo cielo. Tutto questo fino a ieri. Ken, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post smentendo la sua partecipazione alla Kermescan ora più importante dell'anno. Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah. Al momento quindi non c'è nulla di vero. Gianyaman non sarà presente al Festival di Sanremo, che si svolgerà in cinque serate dall'1 al 5 febbraio ed andrà in onda su Rai 1. Nel leggere il post dell'attore turco le fan sono rimaste molto deluse. Non sono mancate, infatti, richieste e offese per il mancato invito del loro idolo. Intanto, nella puntata di sabato 15 gennaio Gianyaman sarà ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te, come la stessa pagina social della trasmissione fa sapere. Sarà l'occasione per le fan di poter rivedere il loro beniamino, visto che da più di un mese l'attore è diventato pressoché invisibile, scomparso perfino dai social. Prosegue nel frattempo a gonfie vele il lavoro in Italia dell'attore turco. Sono in corso, infatti, le riprese della serie tv Viola come il mare, che vede protagonisti Gianyaman e Francesca Achillemi. La fiction dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di marzo prossimo. La fiction dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di marzo prossimo. La fiction dovrebbe andare in onda su Canale. La fiction dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di marzo prossimo. La fiction dovrebbe andare in onda su Hayek. Qua confronted двух gennaio via un'attore consumi, Grazie a tutti.